Musica Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Y Randomizer Nuzlocke e benvenuti in questo 32esimo episodio Nella parte precedente siamo stati a Fluxopoli, abbiamo battuto Astra Capo Palestra Ma il corso della storia ci ha portati qui, al Caffè Elisio Cosa starà succedendo di così tanto misterioso? Dato che appunto alla fine del precedente episodio abbiamo battuto questi due strani tizi qui Che non sono per niente delle reclute, no, assolutamente E questo scaffale non è per niente l'entrata del rifugio super lunghissimo del Team Flare, no Comunque in questo episodio ci addentreremo chiaramente, faremo una parte un pochino più lunga Faremo probabilmente alcuni tagli eccetera 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 Ma come sempre io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per questo nuovissimo episodio E ovviamente un commento qui giù, di lasciare un commento qui giù con l'hashtag DDG per rispondere anche alla domanda del giorno Allora, andiamo Benissimo Laboratori Elisio Innanzitutto incontreremo lui in questo punto qua Benvenuto! Ciao Il mondo è giunto alla fine del suo cammino Non tutte le vite potranno essere salvate Solo i prescelti avranno un biglietto per il futuro E tu? Desideri anche tu il tuo biglietto? Oppure vuoi cercare di fermarmi? Dimostrami le tue intenzioni lottando E lotta sia! Vai! Allora Lotta contro Elisio Possiede 4 Pokémon Quindi il primo Pokémon di Elisio chi sarà mai? Lilligant Grandioso Ok Lilligant ci sta tutto Quindi cosa facciamo adesso? Iniziamo subito ad usare un lanciafiamme per abbrustolire questa piantina Ecco Bene Allora Giù Lilligant Grandioso E adesso Destroier sarà a livello 42 Poi altri livelli Marte il pugno Attenzione Per Destroier Fantastico Marte il pugno Iniziano le mosse super potenti Overpowered E cosa togliamo? Allora Vediamo un attimo Riduttore Non credo Caduta massi Ci stavo ancora pensando Sono una persona stupida a volte Ok Quindi Impariamo Marte il pugno Grandissimo Raidon Titanium sarà al 41 E vorrebbe prendere divieto Oh Tutti Tutte le mosse vogliono prendere No Ok no Noi la facciamo prendere E la blocchiamo Dai Prossimo pokemon di Elysio Chi sarà mai? Spinarak Mamma mia Tutti quanti tipi Coleottero erba Ci piace questo Elysio Ci piace Molto facile da battere Vai 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 Lanciafiamme E giù E giù Spinarak Tra l'altro Da notare Completamente ad occhio Che questi pokemon Si trovano a livello 60 60-61 Prossimo pokemon Prossimo pokemon Slaking Dunque Slaking 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 E' tosta un pochino Siamo un psycho shock Proviamoci vai Siamo pure più veloci ma è normale Spam Non togliamo una sega No attacca con bolla Però no Non puoi Sei contro natura Slaking Sei contro natura Non farlo Proviamo lanciafiamme Dai E se tutto va bene Per il verso giusto Ok Appigrone Come abilità Sì come abilità Grandissimo Quindi lui fa un turno Sì uno no E Basta Lo salutiamo Ciao slaking Adesso L'ultimo pokemon Di elisio Chi sarà mai Cloister Mazza Vai Switchiamo subito Pokemon Tipo così E mettiamo in campo Bruce Ciao Bruce Ok Bruce Con Bruce Usiamo un tuono Che va a segno subito Grandissimo Bruce Super effective E quindi Vinciamo Subitissimo La lotta contro Elisio Qui comando io Ok E adesso Nel tuo cuore brucia il fuoco degli ideali Continua così Bene allora Dato che a priori Impazziremo un pochino Dentro questo Rifugio Già Ma quanta passione Ma quanta passione ci mettete Tu e la tua squadra di pokemon Mi sono proprio divertito Tu vuoi sventrare i nostri piani Ma rifletti un momento Con i Proventi Del laboratorio Ho sempre cercato di aiutare la gente Ma i miei sforzi Non hanno dato frutto Ok va bene Se mi perdo Se mi perdo Nei discorsi Ragazzi Non finiamo mai più Perché Questa qui Penso sia la parte Un pochino più lunga del gioco Adesso succederanno Delle cose Ci mostrerà anche La storia di Azeta Quindi io farò un paio di tagli Per non annoiarvi Magari nella storia principale Come se fosse una guida Non Penso proprio che non vi annoierebbe Se vedeste per la prima volta Pokemon X e Y Ma siamo in una Randomizer Nazilock Quindi è una modalità Di gioco un pochino più 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 cazzona Ecco Detto un pochino In parole povere E niente Dovremmo prenderci la chiave Di questo ascensore Per poi Scendere giù in basso E andare a scoprire Insomma I Veltal Allora Io mi ricordo il percorso Perché ho rivisto Uno dei miei video Della guida Quindi Diciamo che ho la mente fresca Su questi percorsi Quindi faremo Il più in fretta Il più in fretta possibile Allora La prima recluta Del Team Flare Mendoà in campo Un Nidorino Ok Bene Più che altro È tutta una sorpresa Perché abbiamo Tante reclute Da battere E non sappiamo Che Pokémon Hanno tutte queste reclute Quindi Potrebbe essere Facile o difficile In base alla situazione Ecco sì Ok Intanto abbiamo sconfitto La prima recluta Che tanto c'aveva un Pokémon Ed è stato Abbastanza facile Ebbene sì Qui abbiamo Questi Cosi qua Come sì Non so come definirli Ragazzi Intanto c'è un teleporter Ed è questo Che dobbiamo prendere Se non sbaglio Bene Sì Grandioso Invece qui Troviamo Chi troviamo? Ah 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 Ma tu sei quel simpatico Allenatore Della centrale di Kalos Come premesso Ci rivediamo eh Già Con quale allegria Me lo stai dicendo eh A chebia Del team Flair È un ufficiale Tra virgolette Credo Uh mette Farfetch Grandissima Ok Ok ragazzi Farfetch Ci piace Quindi usiamo Psichico Vai Fa tutto spiano Dovrebbe Ok Va giù Tra l'altro Ragazzi Questo è veramente Un ottimo allenamento Perché Perché sì Neptune sarà livello 56 Titanium Al 42 Grandioso E Il prossimo Pokémon Sarà Kingler Quindi cambiamo E mettiamo in campo Bruce Tra l'altro Io Vi ripeto Ricapitolando Quello che Dicevo Nelle parti precedenti Sto allenando Raidon E B-Shark Quindi se non li mette in campo C'è un motivo E quel motivo È che i Pokémon avversari Si trovano a livello 62 Non so se rendo l'idea Appunto perché sono Due new entry Hanno un attimo bisogno Di integrarsi Nel gruppo Della mia squadra Ok Quindi Quindi Non penso sia un problema Se Io non li metterò Per qualche episodio Cioè qualche episodio Qualche lotta Diciamo Niente Bruce sarà il 55 Psyfox 61 Perché vi ricordo Che i Pokémon Avversari Nella randomizer Nelle impostazioni Della randomizer Sono stati Aumentati del 30% Quindi sono un po' più forti Del solito È una difficoltà maggiore Che ho messo io Allora Fuoco bomba Vorrebbe prendere Psyfox Azz Fuoco bomba è tosta Togliamo magifiamma Perché tanto Non la usiamo quasi mai Quindi se ci serve una mossa Molto molto più forte Avanzata Tipo fuoco Andiamo ad usare Di certo fuoco bomba Ma se dobbiamo usare Una mossa Di tipo fuoco Un pochino così Tanto per Attaccare Usiamo lanciafiamme Iperraggio Mi rage Oh mio dio Tutte mosse che Tutte mosse potenti Oggi Allora Iperraggio Certo che sì Non lo so Cosa togliamo Ragazzi Cosa togliamo O magari Andiamo un attimo Ci devo pensare Ci devo pensare Sono in crisi Frana Geoforza Coda Drago Togliamo frana Che dite Vai togliamo frana Ci abbiamo anche una mossa Un pochino molto più forte Anche se Boh Non lo so Non so in che circostanze Potrei usare Un Iperraggio Tipo Però vabbè Intanto la facciamo apprendere Perché potrebbe essere utile Non si sa mai E va bene così Quindi abbiamo vinto Contro quest'altra Purtroppo non ho la chiave Ma ti lascerò passare Ma quale sarà la pedana Giusta per trasportarsi Eh eh Stronza Cioè Mi avresti sicuramente Fregato Se io non avessi Giocato a Pokémon X e Y Per un paio d'anni Ma in realtà Ho visto il mio video Quindi Il passaggio giusto È quello Ah 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 Fregata Ok Andiamo Nel verso giusto Per questa freccia E andiamo a trovare Le Le due amichette lì Ok Anzi no I due amichetti Sono Dexio E l'altra Non mi ricordo mai il nome Raga Ehm Cosa dovevo fare Un attimo Curare i Pokémon Oppure sono a posto No dai sono a posto Tanto loro non Non devono Lottare con me Ma in ogni caso Sono in veste di Supereroi Vai Ok Ok Intanto Riceviamo dei revitalizzanti Che sono Inutili Quanto una forchetta Nel brodo Soprattutto nelle Nuzloc Anzi Solo nelle Nuzloc Fantastico Ok Ciao amici Che non mi hanno dato Un aiuto Bene 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 Da questa parte Abbiamo Un'altra regluta Se posso La evito Quindi ragazzi Non mi linciate Qui giù Possiamo proseguire E poi Possiamo andare Da questa parte A sinistra Che c'è un Giusto un MT Che voglio recuperare Quindi la MT Che contiene Provocazione Così tanto per E E uno strumentino Qua Ok No è un altro revitalizzante Non mi ricordavo Che fosse un revitalizzante Però vabbè Mi hanno comunque fregato Ok Dopodiché Dobbiamo proseguire Da questa parte Quindi battiamo Questa recluta E Andiamo avanti Ok ragazzi Allora Non aveva dei Pokémon Nemmeno troppo complicati Da battere Aveva un Reuniclus E un Daoblade Da Da Daoblade Qualcosa del genere Comunque E Adesso Dobbiamo andare a battere Quest'altra Avete capito? Bene Già Proprio così Però prima No no giusto Dobbiamo andare a battere lei Quindi Dovrei usare un'iperpozione Perché vorrei un attimo Curarmi Tanto non mi hanno nemmeno Stalfito Psyfox Però giusto un pochino 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 E vai Allora andiamo a battere Subito Quanti Pokémon ha Non lo so Due Pokémon Il primo chi sarà mai? Wimsicot Ok Wimsicot Andiamolo a battere Sempre con un lanciafiamme Ragazzi mi favoriscono Dei Pokémon Di tipo erba Quindi devo farlo Perché voglio Sbrigarmi Voglio uscire in fretta Da questo dannato Rifugio E quindi Si Tra l'altro Dopo questo rifugio Ci aspetta Edel Capopalestra E la lega Pokémon Quindi siamo vicinissimi Alla fine del gioco L'ultimo Pokémon Sarà Barbotch Quindi Non lo so Vediamo Acqua di sale Non avrebbe senso Uso delle mosse Di tipo psico Dai Ok Psichico Vai Comunque ragazzi Questa lo so È la classica Parte noiosa Di ogni serie Arriva per tutte le serie Pokémon Il rifugio Del Della Del team Malvagio E quindi Dobbiamo comunque Sorbircelo Ma in ogni caso Se mi volete bene Lasciate comunque un mi piace Perché questi episodi Magari non hanno uno sprint Molto più alto Rispetto agli altri Ma Noi cerchiamo di supportarli Lo stesso Quindi lasciate un mi piace Se volete Allora Dobbiamo andare da questa parte E poi Vediamo un attimo Sta bene il mio Psyfox Sì Sta benone Adesso dobbiamo fare Una nuova lotta Ok Dobbiamo lottare Contro le due ufficiali Che si trovano qui Se non sbaglio Si chiamano Una martinia E l'altra Eh Cosa Ma state male Allora Che problemi avete Tanto per sapere Ok S-s-s-sitisia Bene Ci avete dei nomi Non troppo strani Di più Ok E Chi ha messo Froslass Grandioso Me li trovo tutti Sotto agli occhi Sì Bene 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 Ciao Froslass L'ultimo Pokémon Di già Titanium Sarà al 43 Benissimo Prossima scelta Sublie Quindi Sublie 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 Lo dobbiamo switchare Comunque Non lo so Sono pazzo Mettiamo Neptune Così a random Ciao Neptune Queste preferisco Non tagliarvele Perché comunque Sono le lotte Dei Tra virgolette Boss Dai Se così possiamo Definirle Sono le lotte Dei Battiterra A casissimo Proprio Però è super efficace Mi ha pure diminuito La velocità Maledetto Niente Sono le lotte Degli ufficiali Quindi preferisco Non tagliarvele Ok Abbiamo già sconfitto La prima Adesso manca La seconda E poi Possiamo Andare a recuperare Quella famosa Chiave Ok 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 Ciao Ciao Bene Adesso abbiamo da sconfiggere Martimia Se non sbaglio Credo si chiami così Non lo so Non mi ricordo Piccola peste Guarda cosa hai fatto A CT Si ha Capito Si quella Ok Quindi Parte la sfida Contro No 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 Bromelia Ma raga Ma che Sono malattie Ma Ma perché Vi hanno chiamato In questo modo Bromelia Sintisia Da dove vengono Sti nomi Vabbè Ehm Niente V per Cioè sono dei pokemon Molto molto facili Da abbattere Quindi Per adesso ci siamo Siamo interi Dai Lotta E usiamo Psichico Vai Ok Adesso switchiamo pokemon Quindi Non lo so Dai Facciamo giocare anche Chi è che non ho ancora messo Non ho ancora messo Flygon C'è snout No raga Che palle Non posso switchare Quando mi mettono in campo Un chestnut No Non posso C'è snout Ok C'è snout Ed obbligo Ragazzi Gliela chiudiamo Con un fuoco bomba Subito No evita l'attacco No Presa Maledetto Ok Dai Adesso non puoi evitarlo Infatti Fuoco bomba Bye Bye Ok Abbiamo buttato giù anche questo chestnut E abbiamo vinto contro l'altra ufficiale Bro 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 quella insomma Ok Mi rage sarà il 50 Grandioso Destroyer al 44 Ci stiamo muovendo un po' tutti Diciamo che questi allenamenti Queste lotte diciamo più che altro delle reclute sono servite a qualcosa Ok Sei forte eh Un allenatore che agisce all'unisono con i pokemon E va bene Avrai le risposte che cerchi Stai molto attento Abbiamo sfruttato l'elettricità della centrale di Kalos Per riportare alla luce l'arma suprema Ok Quindi Intanto loro non ci diranno un bel niente Perché sono lì tanto per fare la loro Sporca figura Maledette E noi adesso dovremmo andare Da quella parte Se solo non mi beccasse sta recluta Perché mi sta rompendo le balls Le pokeball Di proporzione su Psyfox E ce ne andiamo Dai 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 non mi beccare vai via Perfetto Ci siamo parati un attimo il culo ragazzi Ok Adesso andiamo da questa parte E battiamo lui Ok allora Abbiamo sconfitto anche lui E quindi Adesso dovremmo procedere Per questo teletrasporto Suppongo Almeno credo Vediamo un pochino dove andiamo No raga Non finiscono più Che palle Oh mio dio Sono infinite Benissimo Allora abbiamo sconfitto L'ennesima recluta Adesso Non mi ricordo se Ok da questa parte Non credo Da questa parte Beccata Ok di qua invece avremo L'ultima ufficiale Ovvero quella che ci consegnerà La chiave per l'ascensore Ok quindi Un momento Sì ok I pokemon stanno bene Intanto io di colpo Mi illumino Perché oggi c'è una brutta giornata Quindi ogni tanto Sbuca fuori il sole Ogni tanto Tutto nuvoloso E va bene così Ok allora Vai Andiamo a lottare Contro di lei E poi Non lo so Andiamo Andiamo All'ascensore Vai ok Martiglia Ecco dove era Martiglia Cazzo Ti stavo cercando Dove cazzo sei stata Allora Abbiamo My Nectric Contro Quindi Un lanciafiamme Non te lo do E nessuno E giù My Nectric Ok No aspetta Giù My Nectric Sto gran cavolo Non me ne ero Completamente accorto Pensavo fosse andata Che un po' Ok Adesso va giù Perfetto Il prossimo ed ultimo Pokémon di Martini Chi sarà mai Meo Mi fa ridere sta cosa Mi fa ridere Ok Meo Ciao Meo 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 Lanciafiamme Vai Sempre lanciafiamme Forever and ever Ok Abbiamo vinto anche Contro Martiglia Quindi Il che vorrà dire Che Riceveremo Finalmente Sta dannata Chiave Dell'ascensore Ok Quindi Tadà Incredibile Il nostro eroe Ha trovato la chiave La chiave Ascensore Ok Quindi Adesso Cosa faremo Con questa chiave Dell'ascensore Andremo a prendere L'ascensore Ma è logico Dobbiamo andare Di qua Vero Penso di sì Di qua E poi di qua Perfetto Ragazzi Siamo arrivati Andiamo Darcusa la chiave Ascensore Chiaramente E andiamo Al piano Meno due Vai Ok Chi incontreremo Al piano Meno due Incontreremo Quel Gran bel Pezzo Duomo Di Elisio Che si trova Esattamente qui Ascolta Tu che affronterai Elisio Ma intanto Vediamo che lì In prigione Ci sta Z Allora Adesso Probabilmente Farò un taglio Della madonna Popo assurdo Lacrime 2000 years Le lacrime Più assurde La sapete Tutti No La storia Di azeta Lacrime No Ok Ragazzi Comunque Cagate A parte Come al solito E' stata Diciamo La tipica Pappardella In cui ci ha Spiegato Praticamente Tutta quanta La storia Di azeta E il suo Floet Se non sbaglio Si chiama Floet Vero E quindi Niente Nel prossimo episodio Probabilmente Andremo a liberare Ovviamente Azeta E andremo a battere Un altro ufficiale Del 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 team Flare Ma innanzitutto Dobbiamo andare Al piano Meno 3 Se non sbaglio Si Dove Comunque Seguiremo Elisio Quindi ragazzuoli Io vi aspetto Qui Mi fermo Qui per oggi Quindi vi aspetto Col prossimo episodio Di pokemon Y Randomizer Nazlock Voi come al solito Non mancate Vi ricordo Come sempre Di lasciare un bel Pollicione In su Per questo Nuovissimo episodio Ovviamente Di commentare Qui sotto Con l'hashtag DDG Per rispondere Alla domanda Del giorno E non solo Argomentate Su tutto quello Che volete Se la storia Di AZ Vi ha fatto Piangere Lacrime Fiumi E cose Assurde E noi Ci si becca Col prossimo episodio Di pokemon Y Randomizer Nazlock Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti